Oggi voglio raccontarvi i punti cardine del programma di Forza Italia. Voglio sottolineare ancora una volta che Forza Italia rappresenta la parte liberale, la parte garantista, la parte cristiana, la parte europeista e atlantica del centro-destra. Quindi le nostre priorità sono quelle per cui ci siamo sempre battuti. Innanzitutto la lotta contro l'oppressione fiscale che realizzeremo con una flat tax al 23% uguale per famiglie e imprese. Poi la lotta contro l'oppressione burocratica abolendo il regime delle autorizzazioni preventive. Così che per costruire una casa o per avviare un'attività imprenditoriale basterà inviare una lettera raccomandata al comune di impertinenza e naturalmente rispettare le leggi perché poi, ma solo posteriori, vi saranno controlli e anche multe per chi non avrà rispettato le leggi. La terza cosa è la lotta contro l'oppressione giudiziaria realizzando finalmente la separazione delle carriere tra giudici e PM in modo che accusa e difesa abbiano gli stessi diritti e anche impedendo i PM di richiamare nel processo che è stato assolto in primo o in secondo grado. A queste cose aggiungo una particolare attenzione per i più deboli, quindi per i giovani che hanno bisogno di opportunità e non di sussidi, per gli anziani, per i disabili, ai quali vogliamo garantire una vita dignitosa e serena con una pensione minima di 1000 euro al mese per 13 mensilità, compresa quella particolare categoria che non ha mai pagato contributi ma che ha lavorato duramente in casa per tenere unita la famiglia e per far crescere i figli. Avete capito che parlo delle nostre mamme e delle nostre nonne. Infine, ma non è certo l'argomento meno importante, infine l'ambiente. Per l'ambiente noi abbiamo messo a punto un progetto molto vasto che va dalle energie rinnovabili alle ricerche per il nucleare pulito come indicato dall'Europa. Questi punti sono i punti cardine del nostro programma di governo che potremo realizzare se molti di voi ci daranno il loro voto. Se voi ci darete il vostro voto lo darete a Forza Italia. Io ci conto davvero.